Ogni tanto vado in palestra, ecco, non da affaticarmi più di tanto, anzi finora io facevo soltanto tapirulan camminata, cicletta non veloce e qualche volta gli attrezzi per le braccia da quest'anno ho deciso di iniziare a frequentare i corsi, quelli di basso livello, che fatica comunque ecco l'impegno che voglio mantenere è quello della palestra, di questi esercizi di basso livello in modo tale per la pancetta, per modellarmi un attimino perché insomma ci vuole Io faccio la cicletta, una mezz'oretta alla mattina, cicletta e poi io per fare la cicletta devo fare una scala a chiocciola e riesco a farla, il mio crucio che faccio fatica, la pigrizia di camminare, ecco quello sì, invece dovrei camminare, io sono andata in montagna adesso da sola, vabbè in albergo, però da sola, sì sì sono sempre andata da sola io Vado sempre lì presso questo centro del dottor Banfi a fare la riabilitazione respiratoria è molto importante perché mi fanno camminare, mi fanno degli esercizi di respiro con l'ossigeno mi faccio la cicletta, cosa che però faccio anche a casa e poi io personalmente ho un fisioterapista mio che viene ogni settimana, una volta alla settimana a casa, mi fa fare questi esercizi con il respiro, cioè faccio un minuto di respiro e poi con l'ossigeno e poi dopo cerco di tossire se c'è del catarro, questo lo faccio quando ho del catarro, poi mi fa fare le scale avanti e indietro, mi fa camminare avanti e indietro per la casa, mi fa dei, non so spiegarle, non sono massaggi, interviene con dei movimenti sui polmoni, sdraiata mentre centri di fisioterapia ne esistono pochissimi di fisioterapia respiratoria invece quando vado là, adesso per esempio ultimamente ho fatto il tapirulam perché il camminare per noi è basilare e mi sono trovata meglio, poi arrivo a casa, diciamo che il beneficio si vanifica in poco tempo voglio fare di più sul fronte dell'attività fisica perché voglio, cioè quel poco fiato che ho me lo voglio preservare e quindi voglio fare un'attività fisica in maniera più costante, più efficace, insomma sicuramente passeggiate, sicuramente sforzarmi di fare almeno il piano di scale che riesca a fare, insomma di farlo cioè di prendere l'ascensore solo per due piani, almeno uno di farlo a piedi però tutto questo, il problema è farlo con costanza perché quando si incomincia a capire che ci sono dei miglioramenti io incomincio a perdere la motivazione per esempio per me è un problema andare in una palestra normale perché io non sono allo stesso livello cioè io non potrei fare le cose che fanno le altre persone non è facile capire dove si possa affrontare questo problema della riabilitazione respiratoria insomma anche avere dei fisioterapisti respiratori io ho sempre cercato dei riferimenti e finora non ho trovato risposte soddisfacenti appunto il mio obiettivo è preservare il fiato che ho quindi grazie mille